Nome? Evelina Luca Vincenzo Migniti Accetti di partecipare e di essere pubblicata sui canali di Steam? Accetto Va benissimo, accetto Sì Cantiere preferito? Nuova Jolly Saver BSC Hai un milione di euro, cosa compri? Tanti nuova Jolly Una 330 walk around, super accessoriata Un B2 o un B1 Cosa ti è piaciuto di più di questo salone? La nautica in generale e la passione per la costruzione di questi mezzi Beh, la novità del salone con tutto il nuovo waterfront è comunque una ripresa della nautica su Genova Gli espositori che hanno portato i migliori prodotti che c'erano in circolazione La gentilezza e la competenza di tutti gli operatori del settore e l'organizzazione La cosa più assurda che ti è successa a bordo? Avaria del motore Scivolare quasi in mare mentre stavo recuperando l'ancora Di rimanere in mare per una varia al motore Saluta la community di C-Team Ciao a tutti Ragazzi, community C-Team, seguite questo canale, seguitelo Cliccate mi piace e continuate a seguire Carlo e tutto il team Ciao a tutti, seguitela, è fantastica! Grazie 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 Grazie